Siamo in compagnia di Martina Colmegna, fino ad adesso grandissima protagonista di questo turno di prequalificazioni. Terzo turno, allora ci racconti un po' com'è andata questa partita con Alice Mattiucci? Questa partita è andata al primo set, alti e bassi, io ho giocato a tratti bene, a tratti male, anche lei. Secondo, io sono riuscita a imporre il mio gioco, sono riuscita a spingere un po' di più e quindi è andata via un po' più veloce. Questa è la tua prima apparizione qui al Foro Italico? Sì, prima volta. Ci spieghi un attimino quali sono le tue sensazioni? Il Foro è bellissimo, è un sogno di tutte le italiane, penso è sicuramente il mio sogno. Spero di riuscire a prendere i wildcard, almeno in quali, e poter partecipare al vero torneo. Ti aspettavi una cavalcata di questo tipo, considerando anche la portata degli avversari? No, soprattutto perché sono stata ferma due anni per operazione alla spalla, ho iniziato a giocare da cinque mesi, due anni di stop totale, atletica, niente, tennis, niente, quindi mi alleno ancora poco, mi alleno un'ora, due ore al giorno, quindi proprio inaspettato. Hai letto il tabellone, sai che la tua prossima avversaria è vincente tra? Di Giuseppe dovrebbe essere. Ah, quindi già la conosci abbastanza bene? Non ci ho mai giocato, la conosco, però poco. Allora ti facciamo un grosso in bocca al lupo e buona fortuna. Grazie.